Non ci credo, non ci credo, non ci credo, siamo riusciti finalmente a spezzare una maledizione, una maledizione che durava dal day one, day one dove abbiamo conquistato un oro nel Taekwondo, un fantastico oro con vite dell'Aquila, ma poi in mezzo 15 medaglie, tutte di argento, tutte di bronzo, delle mezze soddisfazioni, delle delusioni con le sconfitte in finale, una sofferenza unica e finalmente arriva il secondo oro, arriva il secondo oro, dopo 17 medaglie arriva il secondo oro ed è il caso di dirlo in zona Cesarini, infatti a vincerlo sono Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, uno sport che ha sempre dato grandissime gioie all'Italia, ricordiamolo nella storia i fratelli a Bagnale ma poi anche tantissimi altri risultati di rilievo per le imbarcazioni azzurre e arriva questo oro quasi insperato con Federica Cesarini, Valentina Rodini, Federica Cesarini, Valentina Rodini sono campionesse olimpiche nel due, nel doppio, pesi leggeri nel canottaggio a Tokyo 2020, tra parentesi 2021 una gara pazza, una gara veramente assurda, combattutissima fino agli ultimissimi metri, sembrava che ormai l'Olanda fosse lanciata verso la vittoria e poi il crollo nel finale, negli ultimi 20 metri l'Olanda si pianta, l'Italia testa a testa con le francesi Tarantola e Bov e ce la fanno per due decimi, veramente un finale al cardiopalma, non ci credevo, per un certo punto è sembrato legno, eravamo quarti e mancavano pochissimi metri, una rimonta assurda negli ultimi metri, una rimonta assurda fantastica Cesarini e Rodini, fantastiche, 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 una gara che già a metà gara vedeva quattro equipaggi sostanzialmente sulla stessa linea, ai 1500 si era inserito addirittura un quinto, praticamente tutte erano chiuse in un secondo, l'Olanda aveva preso un discreto margine, un secondo e tre, ma poi tutte le altre erano veramente appiccicate, e poi appunto nel finale l'Olanda si pianta a sorpresa negli ultimi 20 metri quando sembrava lanciata verso una vittoria sicura, l'Olanda di Kaiser e Paulis si pianta e chiude solamente terza, risalgono la Francia, risale l'Italia, si è visto subito che l'Italia era leggermente davanti, ma si è aspettato ad esultare perché non si sa mai, e l'Italia ce la fa, l'Italia ce la fa, l'Italia ce la fa, l'Italia campionessa olimpica, seconda posizione per la Francia, Tarantula e Bov, terza posizione per l'Olanda, Kaiser e Paulis, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Comunque ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi alcuni aggiornamenti su queste Olimpidi, seguiremo assieme tutte le gare, in questo momento c'è il nuoto, lo seguiremo assieme, abbiamo Paltri Neri, abbiamo Mieressi, abbiamo veramente tantissimo in programma quest'oggi, abbiamo una scherma col fioretto femminile, abbiamo veramente di tutto di più, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi alcun aggiornamento, e direi che per questo video vi lascio un commento, piaccia, iscrivetevi e seguite la nostra pagina, e se noi ci vediamo al prossimo video. Se, se, campioni olimpici! Grazie!